E siamo qui oggi, dov'è Clint Eastwood? Mollu, sulla G.P., dai! Vieni, vieni, vieni! Andiamo Mollu, facciamo il culo a tutti! Stai zitto, scemo! Andiamo? Andiamo su A, andiamo su A! Andiamo? Eh? No! Si però non c'è portà in bocca alla morte, Mollu! Ma che in bocca alla morte? Sono un guidatore provetto! Sono gli aeree! Ragazzi, volete sapere come si fanno i salti su sto gioco? Ecco, là! Così! Guarda! Di qualità! Cazzo lo voglio rifare! Eh, attenzione, era proprio da... Cazzo lo voglio rifare! Cazzo lo voglio rifare! Ma secondo voi sparando l'aereo con la mitagliatrice che sta qua dietro cade? Clint, guardami! Boh, provo! Lo stai, lo stai! Eh, però Mollu guida un po' male, ma tipo leggermente! Stai zitto cei tazzo! A me che è mal di testa! Non so, guarda il video com'è! Oh! Cioè noi dovremmo conquistare gli obiettivi invece guarda qui! Stanno sparando, Mollu, Mollu stanno sparando! Mamma mia! Questa è tutta tattica, poi non capisco il cazzo! Venga con me, venga con me! Venga con me, signor Clint! Ma lei si basi a cavallo! Signor Clint! Ma dove cazzo stai Mollu? Signor Clint! Sono dietro di lei, signor Clint! Venga con me, venga con me! Moriremo subito però! Andiamo a vedere se... Oh! Già vanno sparà! Andiamo a vedere se in queste case cercano l'aiuto di Geova! Penso che in queste case faremo una bella fine, infatti! Allora, ragazzi, state vicino al vostro sergente e tutto andrà bene, ve lo prometto! Sergente Maggiore Mollu, qua la partita va male! Una domanda! Mando cazzo te vanna! Eh... Come è base l'idea! Che tazzo! Dimmi! Vaffanbocca le morto le mamme! Ah no! Questa era diversa! Io non censuro un cazzo, Madze, quindi... E poi lo lasciano! Che cazzo me prego? Io sono vicino di una casa morto, sempre! Non è che c'è un dubbio! Eh! Importate che sei morto, comunque! Sì! Poi va tutto bene! Sto sparando a uno in bocca da due ore, ma a quanto pare il mio proiettile arriva... Non in Tunisia, ma in Turchia! Guarda, riguarda, 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 riguarda! Cioè, io non riesco a capire qual è la dinamica con cui un cecchino deve sparare su questo gioco! Cioè, sparo all'Artico Polare... Antartico! Come dice, scusi! Spavo nato a venti chilometri! Anch'io ci sono, Clint, dobbiamo... Io so su R! Maestro, lei dov'è? Sempre su un vicino G, sto! Vicino G? Ma non era C, mezzo secondo fa? No, evidentemente no! Evidentemente non hai capito, J.Taz! Era tutta una dattica, no? Ah, ho capito! Allora, mi sto dirigendo verso di nemica! Ragazzi, a sinistra, a sinistra c'è qualcuno che spara! C'è qualcuno, c'è un esercito! Ah, c'è proprio il carro armato, ok! Porca puttana! Fantastico! Sì, ho visto pure l'aereo che... L'ha lanciato tipo... Ah, c'è uno che è arrivato col paracadute! No, ma c'è uno col paracadute! Uno col paracadute! E' arrivato là, arrivato là, arrivato là! Grande Clint! L'ho visto! Gli è esploso il cervello! Sto tirando i proiettoli del Cristo al... Eccola là! No, lo vedi, lo vedi! Già mi ha rotto il cazzo questo con la pistola! Ficcatela un po' con il culo e gira! Oh! Tronzo! Sto spavendo su A! Dai, questo non riesco a capire come non si possa prendere! Ah, mi ha investito con un cavallo! Perfetto! E' tutto ciò quello che poi avevo bisogno! Dici, cazzo, vado in macchina... E li investono i cavalli! Che brutta vita! Che visa di merda! Uh, ma c'è un cararmato abbandonato nel deserto! Prendilo! Aspetta, ma si sta muovendo! Forse non era così abbandonato, eh! Vero? Le sto a prendere! Ma già io non vedo un cazzo che sono miope e astigmatico! Se in più mi mettono questa cazzo di roba di sabbia, io che minchia faccio? Attenzione, arriva il tanker! Dov'è? Se qualcuno salisse sopra a sparà però, mollo! Sto catturando F, cosa non hai capito? Arrivo, 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 Clint! Clint, Clint, Clint! Sto aspettando, ma sta tempesta da un... E' scomparsa! Dove cazzo? E' scomparsa! E' scomparsa! Ma che cazzo? E' scomparsa la tempesta? Ma ora sta distrutta lui e si è spoligonizzata! Che? Che spoligonizzata? Spoligonizzata! E' un baffè! E' un baffè! Che termini! Diamo mollura! Verso la morte! Ma venga, venga con me, Clint! Venga con me! Ogni volta che seguo mollura, me sparano da dietro! Ma venga con me, Clint! Quando segui mollura stai girato verso dietro! Che cazzo è questo? Via, via, via! Oh, sta più a fuoco! Mannaggia! Ah, ho preso uno di quei camioncini belli! Io sono dal Marzone! Capito! Che è diventato il nuovo Italian Sniper! Sto sparando ai cavalli! Ah! Oh, ho ammazzato uno! Ormai dopo che ti hanno investito mentre tu stavi in macchina ce l'hai con loro, eh! Cazzo, te credo! Sto zorro! Eh, ma i cavalli sono delle persone orribili, comunque! Vai, lo t'coion! Eh, muori, stronzo! Olè! Frank Marzen! Ragazzi, sono tutti dappertutto, intossibile! Frank Marzen! È un cavallo di merda! Allora, adesso dove cazzo stiamo andando noi? Allora, ragazzi! Vai, maestro, ti seguo! Sono dietro di te! Vai tutti insieme! Questo ci ha rubato il furgoncino! Ma infatti, spara un po'! Maledetto! Si può più vivere, eh! In guerra! Ti rubano pure le macchine, Clint! Ragazzi! Ma è... Non posso sparare su C! Cazzo! Perché io ho il vizio in tutti i cazzo di FPS di ricaricare il fottuta volta? Pure io! Pure io è uguale! Eh, pure io! Io c'ho il vizio di morire, com'è? Vabbè! Vieni su! Mi posso che vedi un riflesso! Uno si chiama Bulbasau, tipo! Si, percucciate che... Oh! Non sono riuscito a... A ucciderlo con colpo quasi in capoccio! Io sono spavano su C! Ma perché me ne devo andare da questo posto fantastico, eh! E rimango qua sotto all'ulivo! Ciao! Ti fumi la foglia pipa! Mi ha... Mi ha precipitato un aereo! E dietro di me... Ho sentito l'esplosione stato! Regà, a me mi è spavnato in faccia, quindi! Battaglione sdrogo! Eh, in realtà è un battaglino, però! Ma io... Non meglio di niente! Il tempo di guerra non si è potuta niente! Il tempo di guerra mi buco in galleria, no? Non si fidi della gente mollura! E' stato... Satti zitt che devo andare ad investire questo! Più sotto a sto passazzo! Affan mocca la murta da mano! Non ti metter mano! Prendiamo qui, prendiamo qui! Sì! E' tipo vuota! Aspetta che mi sto confondendo! Questo è nostro! Io prendo il cavallo! Stavo scherzando! Stavo scherzando! Stavo scherzando! Mi sono morto in tutto questo, però! Eh, boh! Hai visto? Ho investito il cavallaro! Mi sono rotto i coglioni e voglio più un cavallo! Porca miseria! Sennò che cazzo dei grint so! De merda! Sei quello falso! La Jeep! Vabbè, diamo la Jeep! Vengo io con lei, dottore! No, no! Voglio guidare io! Vai! Vada, vada! Verso la morte! Chi c'è a bordo? Io! Ah, vai! Ti porto, guarda, in un posto dove neanche te ne accorgi! Ma già sei nell'aldilà! Ah! Bello! Deve essere un bel posto allora! In mezzo alla strada, praticamente! Oh! Porca puttana! Oh! Ho scoperto che c'è un clacson! Ma io so vivo! Al mollo che era morto davanti alla Jeep! No, no! Io so vivo! Io ho visto un cadavere che... Ecco, adesso pure... Mi continuo ad investire il cavallo, ragazzi, eh! Potrei avere un odio verso gli zoo! No! Oh cazzo! Ma che cazzo? Oh! Titti! Come ti ho salvato! Eh! Ho visto proprio... L'ultimo proiettile l'hai sparato te per ucciderlo! Col cecchino poi! Il best sniper! Che team hai detto che si deve fidare di me! Ma se ti ho salvato io, te se ti devi fidare me non io! Ma abbiamo collaborato! Ma che cazzo vuoi? Che lo dica, che lo dica, Master! Cattura, cattura, Clint! No, perché mi ha messo quest'arma di merda? Non la voglio! Cattura, accendo Pokémon GO, allora vai! Che cazzo stai dicendo? C'è un mollurizard qui! Non ho capito! Io sto spawnando su Clint! E Marza! Bene, prepareremo la barra! Ma vieni su di me che andiamo su E! Andiamo su E, ragazzi! Vai! Andiamo, andiamo, andiamo! Sì, magari se piavi un mezzo, Marza! Hai mai fatto rispawnare su Dede e poi... Ah, bisogna fare un po' di allenamenti! Ma cosa sono questi salti ambigui che stai facendo, Clint? Con un mezzo? Che a vederti da lontano è fantastico! Ragazzi, ci sono anche io! Eh! Oh no! Aspettavo! Battaglione sdrago la riscosta! Usate i cittini! Guardate! Che bel giro! Guarda l'aereo! Guarda l'aereo! Metti l'infiltrazione tattica! Qua c'è chi ne ponte! Cazzo! Ma rega, fa mettere 60! Andiamo a prendere... Ma sono il secondo di tutto il team, ragazzi! Non ho mai giocato a questo gioco! Fate cacare! Io sono il quarto! Sto prendendo 0-6 e sono quarto! Non si scherza col maestro! Poi posso fatte una domanda in live, Marzen, ma perché... Perché adesso? Perché hai rubato il titolo di maestro Ornizuka? Perché c'è chi è maestro dell'editing e chi di vita! Ah! Ah! Poi è Yoma che me l'ha dato comunque! Non so io che modo presto! Eh, ormai è troppo tardi! Ma guardi maestro Marzano, lei si può prendere quello che vuole! Anche il mio cazzo, volendo! Potrei evitare! Ma come? Non posso scegliere! Eh, diciamo che non è proprio... Ma per quale futile motivo mi perdoni? Per quale futile motivo dovrei usarlo, vorrei sapere! Ma non lo so se vuole... se vuole divertirsi, insomma! Potrebbe non essere nei miei gusti! Va, J-Taz! Sono stato promosso! Livello 7! Conquistate voi o che cazzo c'è sta a fare qua? Ma qui stiamo tutti insieme! Penso che comunque si conquisti più veloce! Esatto! Cazzuone, bastard! Ma piatemela in culo! Ma piatemela in culo col ditto, no? Ma no! Con ditto! Oddio, c'è un treno! C'è un treno! C'è un treno! Dove? Guardate il radar! C'è un treno che spara! Va sulle rotaglie! J-Taz, c'hai già giocato ieri! L'hai già visto quel treno! Perché devi mentire? Non l'ho mai visto il treno! No, l'hai già visto! Non è vero! Mamma, mamma! Ho visto il treno! Che bello! È la prima volta! Lo giuro! Non l'ho mai visto il treno! Eh, niente! Cominciamo la end! Vaffanculo! Nooo! Incredibile! Pensate che gioco! Ci siamo a sparare! Credibile! No, regà, non me lo sarei mai aspettato il cielo! Abbiamo allora, vaffanculo! Ti ho inventato io, J-Taz! Grazie! Ah, l'hai proprio costruito! Che pezzi hai usato? Ma guarda, il legno e poi mi sono fatto una sega come il geppetto con Pinocchio! Che era Pinocchio! Guarda, io sono sicuro che la storia della Disney non fosse così! Ah, dice no? No, guarda, secondo me era leggermente diversa! Però io ho capito che Pinocchio era nato da una sega! Non so di quale tipo, però... Ah! Vabbè, ma c'è una mira! No, una pala! Ma che cazzo è? Vediamo ancora 7 secondi di gloria! 6, 5, 4, abbiamo perso! Posso dare una paletta da mollo? PC! Yeah! No! Come se è fermata l'inquadratura, non ci credo! No!